Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano, un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone contro il lavoro nero. Da inizio anno, i finanzieri pordenonesi hanno individuato 55 lavoratori nero, 40 dei quali straniere, tra cui 8 clandestini in Italia e 10 falsi turisti. Gli accertamenti hanno portato a sanzionare 27 datori di lavoro e a sospendere l'attività di 17 imprese. Le fiamme gialle del comando provinciale hanno effettuato in totale 37 interventi a contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Sono stati verbalizzati 28 datori di lavoro per l'illecito impiego di mano d'opera e 17 di loro hanno visto dal competente spettorato del lavoro la sospensione della loro attività prevista per chi impiega personale in nero in misura superiore al 10% del totale delle maestranze irregolari. Per ogni lavoratore in nero scoperto è stata errorata al datore di lavoro la maxi-sanzione condifida che prevede una pena pecuniaria che veda un minimo di 1.800 euro o un massimo di 10.800. Gli ultimi interventi in orina e temporale sono stati effettuati dai finanzieri del gruppo di Porrenone e dalla tenenza di Spilimbergo rispettivamente nel settore agricolo e in quello del commercio di prodotti alimentari e di abbigliamento. Una guardia giurata notturna in servizio al campus del centro di riferimento oncologico di Aviano è morta in servizio per un probabile attacco cardiaco ed è rimasta nella guardiola chiusa all'interno. Ad accorgersi del malore dell'uomo è stato un altro operatore notturno che ha lanciato l'allarme stamani all'alba alle 5.30. La guardia giurata era stesa a terra priva di conoscenza sul posto anche i vigili del fuoco che hanno sbloccato la porta consentendo l'accesso al personale sanitario intervenuto d'urgenza che però ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri ed è escluso al momento il coinvolgimento di terzi. Andiamo a Trieste ora dove una persona ha perso la vista da un occhio dopo essere rimasta vittima di una violenta aggressione scoppiata per futili motivi fatti nel capologo regionale all'interno di un pub. Nicola Giraldi E' stato denunciato a piede libero il giovane di nazionalità italiana che nella notte fra il 24 e il 25 maggio a Trieste ha aggredito a colpi di bottiglia un 33enne di origini serve causandogli la perdita della vista da un occhio. Il grave episodio è avvenuto nei pressi del Red Baron pub nel rione di Costa Lunga, la periferia sud del capoluogo Giuliano. Ancora ignote le cause della violenta rissa sul posto è giunta la squadra volante della questura triestina e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il 36enne avrebbe aggredito lo straniero con una bottiglia colpendolo alla testa e al viso. Il giovane serbo trasportato al pronto soccorso di Catinara dai sanitari del 118 è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa delle gravi ferite subite. L'occhio sottoposto ad intervento ha perso la capacità visiva, l'aggressore invece è stato denunciato a piede libero. Rimaniamo nel capoluogo regionale dove il pubblico ministero Lucia Baldovina ha chiesto stamattina l'ergastolo senza isolamento di urno per Alica Scimil, il 23enne imputato per l'omicidio di Robert Trajkovic e gli avvocati di parte civile chiedono risarcimento alla famiglia della vittima per un totale che supera il milione di euro. E' quanto emerso nell'udienza che si è celebrata in Corte d'Assise, aula presieduta dal giudice Truncellito, che emetterà la sentenza il prossimo 30 giugno. Come dichiarato dal pubblico ministero durante la requisitoria, le tracce del DNA di Kashim sono state trovate sul cordino con il quale il giovane Trajkovic è stato strozzato per poi essere trovato senza vita nel sottoscala di un bed and breakfast in via Rittermeier a Trieste dove alloggiava la ragazza contesa tra i due. Sempre per quanto riguarda Trieste, la polizia ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Trieste nei confronti di cinque cittadini di cui due italiani, due albanesi e uno svizzero, una misura scaturita all'esito delle indagini per la cosiddetta banda dei Rolex che si era impossessata di orologi di alto valore all'interno di diverse case della città di Trieste, dunque operazione che ha portato a sgominare la banda. Ora ci trasferiamo nuovamente in Emilia Romagna per gli ulteriori aggiornamenti rispetto alla situazione post-maltempo con l'intervento della protezione civile del Friuli Venezia Giulia ancora presente sul territorio, tra l'altro una nuova minaccia per la Romagna arriva dall'ultimo bollettino che annuncia ancora una nuova allerta rossa. Monica Nardini. In Emilia Romagna permane l'allerta rossa per criticità idraulica nella pianura bolognese, Ravennate e Forlivese confermata anche per questo sabato per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi che gravano sul reticolo secondario e di bonifica interessato ancora da livelli idrici elevati anche in considerazioni dei possibili temporali previsti. Nei comuni di Ravenna, Forlì e Predappio continuano a operare a sostegno della popolazione alluvionata anche i volontari e funzionari della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Questo giovedì, proprio a Forlì, sono giunti il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale Riccardo Riccardi che li hanno incontrati e ringraziati nel punto di raccolta della fiera per l'aiuto offerto, sottolineandone la generosità e l'alta professionalità. Oltre 100 donne e uomini che sono collocati tra Ravenna, Forlì e Predappio molti mezzi, in particolare qualcuno per l'inversione delle acque che è una delle problematiche più grosse che abbiamo visto e in più anche una squadra che arriva da Pordenone per la salvaguardia e il salvataggio di beni culturali. C'è una biblioteca molto preziosa e importante sulla quale i nostri stanno lavorando. Devo dire un lavoro che è anche apprezzato dalla popolazione e continueremo a sostenere queste popolazioni che sono state veramente colpite in maniera importante. A sostegno delle zone alluvionate dell'Emilia Romagna si è mobilitata anche un'azienda con seda a Pordenone, Labofrost, con una cordata di solidarietà fra i dipendenti, la promozione di una raccolta fondi che coinvolgerà i clienti e la messa a disposizione delle proprie celle frigolifere per preservare, nell'attesa del restauro, i libri antichi della biblioteca diocesana di Forlì danneggiati dall'acqua e dal fango e non solo. Abbiamo subito risposto alla richiesta del vescovo di Forlimo, signor Livio Corazza, che originario di Pordenone, ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda Gianluca Testolin, come riferisce l'Ansa. Siamo già da alcuni giorni anche in contatto e a disposizione della sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, ha aggiunto, e con l'unità di crisi del coordinamento regionale del Ministero della Cultura per contribuire al salvataggio delle opere d'arte di altri siti storici, come l'archivio municipale di Sant'Agata su San Terno, in provincia di Ravenna. Nella riunione del Governo con la maggioranza dedicata al decreto sulla pubblica amministrazione è arrivato oggi il via libera dell'esecutivo agli emendamenti della Lega e di Fratelli d'Italia che autorizzano i forestali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige ad usare il cosiddetto spray al peperoncino per difendersi dagli attacchi degli orsi. Gli emendamenti identici dei due partiti affermano che in facoltà dei corpi forestali delle due regioni portare senza licenze durante il servizio gli strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina individuati sulla base di decreti adottati rispettivamente dai presidenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Salute. A Nogaredo, al Torre, inaugurato poco fa il nuovo impianto per l'irrigazione agricola chiamato Pras de Torre, fermo da oltre un decennio, è stato risistemato dal Consorzio di Bonifica della pianura friulana grazie ad un finanziamento regionale di circa 70.000 euro. Ci spiega le caratteristiche dell'impianto il direttore del Consorzio. Quali le caratteristiche di questo impianto? È un impianto che è finalizzato l'irrigazione di una superficie potenziale di circa 120 ettari mediante l'attingimento della falda freatica con un pozzo profondo 50 metri. la portata massima che si può estrarre dalla falda è intorno ai 100 litri al secondo. In una prima fase daremo irrigazione di 40 ettari circa, poi man mano, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, andremo a coprire l'intera superficie. In questo momento, in questa zona, non c'era un impianto di irrigazione? No, in questa zona non c'era nessun impianto consortile, c'erano degli impianti magari privati, però l'esigenza invece di portare impianti consortili era sempre più evidente alla luce e anche dei sempre più frequenti periodi siccitosi. In questo momento ci sono le falde sotto osservazione. In questa zona la situazione com'è? Diciamo che in questa zona è meno o peggio, passatemi il termine, di altre zone. Siamo più in difficoltà nella zona più vicina al tagliamento, invece nella zona orientale, quindi tra il Civitale e questa zona andiamo abbastanza bene. Veniamo alle decisioni della Giunta regionale con la Friuli Venezia Giulia che parteciperà al bando indetto per l'individuazione e finanziamento con fondi europei di sette progetti pilota in ambito della mobilità sostenibile da realizzare in altre tante regioni e province autonome. A comunicarlo l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante, a margine della Giunta odierna. Il bando si riferisce all'investimento del PNRR Mobility S Service for Italy per integrare le modalità di trasporto pubblico e privato attraverso piattaforme di intermediazione fornendo agli utenti finali una varietà di servizi che vanno dalla pianificazione del viaggio alla prenotazione e ai pagamenti. Sarà presentato un progetto pilota DOC per i territori del Goriziano e del Triestino. A Gorizia in particolare prosegue la operazione Scuola in Sicurezza, cantiere aperti per l'adeguamento antisismico, ne ha parlato oggi il Sindaco Ziberna. Bella giornata quella di oggi perché parliamo di bambini, parliamo di chi lavora nelle scuole e parliamo soprattutto di scuole in sicurezza. Ma la prima nostra grande preoccupazione già da sei anni, dal mio primo mandato, è quella di mettere in sicurezza progressivamente tutte le scuole. Parliamo di risorse molto importanti, alle mie spalle abbiamo la scuola di Via Romana a Lucinico, abbiamo fatto un sopologo però un attimo fa anche nella scuola di Viudine, quella che noi chiamiamo scuola serbatoio, l'ex scuola di Amicis, dove verranno trasferite alcune classi in attesa di ulteriori interventi. Alle mie spalle sarà finito a breve, indico con la mano l'altro presso scolastico che subirà un intervento successivamente. Ecco, un po' alla volta su tutto il territorio municipale, ripeto, noi avremo le scuole completamente in sicurezza. Gli interventi sul territorio di Lucinico sono molteplici, infatti stiamo completando la scuola serbatoio che verrà terminata presumibilmente a metà luglio e ospiterà con il prossimo anno scolastico i ragazzi delle scuole medie di Lucinico. La sede nella quale ci troviamo è dell'Istituto Perco di Via Romana, abbiamo la scuola elementare sulla nostra sinistra, dove sono in essere attualmente gli interventi di adeguamento sismico che termineranno nel corso dell'estate e gli interventi sulla scuola media partiranno appunto appena terminati quelli della scuola elementare e si concluderanno nel corso dell'anno scolastico successivo. La scuola elementare già dal prossimo anno sarà fruibile da parte degli studenti di Lucinico. Meno uno al passaggio del Giro d'Italia in Frui Venezia Giulia con la crono scalata tra Tarviso e il Lussari. Oggi tappa invece tra Longarone e il passo Tre Croci attraverso le tre cime di Lavaredo con una commemorazione particolare stamattina prima della partenza della tappa. È stato reso omaggio alle vittime della tragedia del Vaiont con un breve momento di raccoglimento e una delegazione della corsa assieme a Vincenzo Nibale, al sindaco di Longarone, Roberto Padrina, al presidente del Veneto, Luca Zaia. La commemorazione si è tenuta al cimitero delle vittime nella frazione di Fortogna. Qui dentro, ha detto Zaia, ci sono 1910 cippi, ricordano i morti del Vaiont quel 9 ottobre del 1963, ma è anche la memoria di quello che deve essere il rapporto dell'uomo con la natura. L'uomo non è invincibile davanti alla natura, l'uomo deve avere un rapporto di rispetto con essa, ha concluso Zaia. Per quanto riguarda poi le altre iniziative del fine settimana, ritorna per il secondo weekend a Sapori Proloco a Villa Manin con il presidente delle Proloco regionali Pezzarini. Andiamo dunque a scoprire quelle che saranno le opportunità per i turisti. Walter Pezzarini, presidente regionale delle Proloco, pronti per il secondo fine settimana di questa grande manifestazione. Sì, abbiamo concluso questi due giorni, sono stati veramente una sorpresa positiva con una marea di gente che è arrivata a Villa Manin, abbiamo calcolato 30.000 presenze, il sole è stato a farci compagnia, questo è un aspetto molto importante, ma dobbiamo fare anche una valutazione sul perché le persone, le famiglie vengono a Villa Manin. Quest'anno abbiamo creato un contenitore di eventi collaterali all'enogastronomia, una serie di incontri culturali, musicali, spazio per lo sport, spazio per le famiglie, spazio per i bambini che sono stati tutti super frequentati. Quindi il segreto di questa manifestazione è che le famiglie vengono qui e possono lasciare i bambini liberi, tranquilli di trascorrere, di correre sul prato mentre loro degustano o visitano una mostra. Ci prepariamo al secondo weekend, sarà molto impegnativo anche quello, perché sono tre giorni, due interi, venerdì pomeriggio dalle 18 in poi, pronti ad accogliere come sempre i visitatori che arriveranno qui anche da fuori regione, anche dall'estero, anche dall'Austria, molti dal Veneto, dalla Lombardia, qualcuno dal Piemonte. Questo ci fa molto piacere perché questa manifestazione ormai è conosciuta a livello nazionale. E sono Erin Rossi dell'Istituto Stringer di Udine e Michelle Cata del Civiform di Trieste, le due vincitrici del Pastry, i Bakery Awards, la gara di pasticceria, svoltasi ieri nella sede di Pazian di Prato dell'Associazione Etica del Gusto, alla quale hanno preso parte dieci studenti in rappresentanza di Civiform, degli Istituti Stringer di Udine, del Pertini di Monfalcone, dell'Inuscio di Codroip e di Tolmezzo. Dieci finalisti hanno preparato un dessert sulla base della ricetta indicata a loro da Manuel Bertossi, responsabile della formazione di Etica Academy, rassiste a giudicare la preparazione del dolce a base di cocco e mango. c'è la giuria qualificata preseduta dallo chef Massimiliano Sabinot, titolare del Vitello d'Oro di Udine. Siamo in chiusura, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19, il nostro TG sportivo, l'edizione dedicata a cronaca ed attualità, e poi alle 20.30 ritorno a cartellino giallo con Tommaso Cerno, alle 20.45 il venerdì del direttore con Massimo Campazzo e Michele Criscitello, alle 21.15 fair play con Francesco Pezzella. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.